Salve a tutti, buon venerdì e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. In questo video vediamo tutte le fasce di indicizzazione in arrivo a gennaio 2024 che come detto dovrebbero aumentare secondo l'indice del 5,4%. Vediamo insieme i dettagli nel video che segue. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Secondo le ultime anticipazioni, come detto anche in un video pubblicato gli scorsi giorni, l'aumento delle pensioni a gennaio 2024 sarà del 5,4%, ovvero l'indice di perequazione automatica su cui calcolare la rivalutazione delle pensioni per l'anno 21. Se il decreto del Ministero delle Finanze che dovrebbe arrivare a giorni ne darà conferma, sarà dunque questa la percentuale di indicizzazione al 100% per gli assegni fino a 4 volte il trattamento minimo, la nuova minima e l'assegno sociale. In base all'indice definitivo di indicizzazione a applicarsi ai trattamenti 2024, le pensioni dovrebbero aumentare da gennaio, secondo questa tabella. Fino a 4 volte il minimo avremo un'indicizzazione al 100%, fra le 4 e le 5 volte il minimo l'indicizzazione scenderà all'85%, fra le 5 e le 6 volte il minimo l'indicizzazione sarà al 53%, fra le 6 e le 8 volte il minimo l'indicizzazione al 47%, fino a 10 volte il minimo l'indicizzazione al 37% e oltre le 10 volte il minimo l'indicizzazione scenderà alla soglia del 22%. Ricordiamo che gli aumenti sono attribuiti entro il limite maggiorato con la quota di rivalutazione, significa che per le pensioni a cavallo tra due scaglioni si applica quello più conveniente. Se parliamo ora di cifre, quindi fino a 2272 euro lordi circa mensili, applicheremo la preequazione al 100%, fino a circa 2840 euro lordi mensili, applicheremo un indice di preequazione all'85%, fino a circa 3308 euro lordi mensili, applicheremo l'indice di preequazione al 53%, fino a circa 4544 euro lordi mensili, l'indice sarà al 47% e fino a circa 5679 euro lordi mensili, applicheremo un indice del 37%. Infine, oltre la soglia dei 5680 euro lordi mensili, applicheremo la soglia del 22% come indice di preequazione. La pensione minima 2024, se sarà confermato questo indice al 5,4%, dovrebbe quindi arrivare a 598,61 euro. A questo valore poi si applicherebbe anche la super rivalutazione annunciata dal governo. L'assegno sociale, invece, attualmente pari a 503,27 euro, salirà a 507,02 euro, applicando un'indicizzazione definitiva dell'8,1%, con l'aggiunta del 5,4% nel 2024 e arriverebbe quindi a 534,40 euro. Queste, dunque, tutte le fasce che dovremmo aspettarci a gennaio 2024. In ogni caso, come detto inizio video, il governo dovrebbe confermare a giorni l'indice definitivo della rivalutazione.